Bentornati, allora ieri sera sono stato a vedere la finale del concorso internazionale di direzione Guido Cantelli presso il Teatro Coccia di Novara con l'Orchestra Sinfonica di Milano tutta la parte di eliminatoria si è svolta presso la Sinfonica di Milano e poi invece la serata finale, la finale del Teatro Coccia che comunque organizzava tutto l'evento dato che il premio Cantelli proprio nasce a Novara perché per chi non lo sapesse Guido Cantelli era di Novara è stata l'occasione non solo di vedere dei bravi direttori, giovani direttori all'opera e ne parlerò tra un attimo ma soprattutto quello di ovviamente di fare ancora una piccola riflessione su quel fenomeno musicale che è stato Guido Cantelli che poi insomma morto prematuramente come sicuramente sapete in un incidente aereo e come dire lasciandoci orfani di quello che probabilmente sarebbe stato il direttore migliore della sua generazione e probabilmente non solo uno di quei casi alla Toscanini o alla Ferrara quella ragione inspiegabile per cui nello stesso individuo vengono concentrate una quantità di qualità musicali che normalmente basterebbero per fare dieci ottimi musicisti e vengono tutte concentrate 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 in uno Cantelli era visto veramente come l'erede di Toscanini, il figlio artistico di Toscanini che infatti lo aveva molto aiutato nella sua carriera perché riconosceva appunto in lui un talento straordinario tanto è vero che poi quando Cantelli morirà Toscanini era ancora avanti, insomma era già avanti negli anni e morirà in realtà poco dopo e la notizia della morte di Cantelli verrà tenuta nascosta a Toscanini ecco oggi sarebbe più complicato ma diciamo che ai tempi era più semplice per cui abbiamo ricordato questa figura straordinaria c'era in sala anche il figlio di Cantelli, Leonardo mi pare che si chiami che non ha mai conosciuto il padre perché quando il padre è morto lui aveva cinque mesi però insomma attraverso il suo ricordo indiretto cioè attraverso ovviamente la madre e gli altri parenti è stata ovviamente ricostruita la figura di questo musicista straordinario che a proposito di memoria vi ricordate quando io vi dico non fatevi impressionare da un direttore che fa il concerto a memoria fatevi impressionare da un direttore che fa le proprie memorie ecco Cantelli faceva le proprie memorie ecco giusto per capirci poi magari può anche darsi che un giorno faccia un video come dire specifico e monografico su Cantelli so che molti di voi me l'hanno chiesto l'ho messo nella programmazione futura del canale ma ovviamente tanti video adesso da realizzare quindi insomma ci coi di seguire anche un po' la mia linea editoriale allora ripeto è stata l'occasione per vedere la finale fatta da quattro finalisti due italiani, un tedesco e un coreano e ora ve li racconto beh è chiaro partiamo da un concetto quando si arriva con una selezione così pensate che sono arrivate oltre 240 candidature per questo concorso è stata fatta una serie di di sgrossature naturalmente poi la fase finale era in 18 questi 18 sono diventati 8 questi 8 sono diventati 4 della finale per cui è chiaro che se i direttori che abbiamo visto ieri sera erano i migliori 4 di 240 beh insomma è chiaro che stiamo parlando per tutti di ottimi musicisti va bene poi qualcuno vince qualcuno perde ma questo insomma è nella logica di una qualunque competizione però insomma ecco sul livello di tutti e quattro credo che che non ci si possano che non ci siano dubbi insomma ecco allora c'era un programma ed è stato il programma prevedeva un pezzo in prima esecuzione assoluta di Gianluca Piombo le variazioni sinfoniche ve ne parlerò più avanti poi l'Uverture dei Vespi siciliani del Peppino nazionale Don Juan di Enrica Strauss recentemente ho fatto un video con Boehm che lo prova e lo segue e poi la terza sinfonia di Brahms divisa in due parti per cui se il programma del concerto finale era questo sono stati estratti a sorte chi avrebbe fatto la prima parte chi avrebbe fatto la seconda chi la terza chi la quarta e quindi questo determinava anche l'ordine naturalmente di esecuzione allora il primo candidato che abbiamo visto il podio è stato Giovanni Conti un ragazzo di 27 anni ancora per poco ne fa 28 tra pochi giorni ma formalmente ancora 27 anni che appunto ha eseguito le variazioni sinfoniche questo pezzo in prima esecuzione assoluta scritto da Gianluca Piombo che è un pezzo molto interessante che riprende un tema di un compositore russo abbastanza misconosciuto filo retro come stile compositivo però si sente che un compositore che la materia la conosce ha orchestrato molto bene ha orchestrato molto bene il pezzo quindi insomma sicuramente è anche di ascolto piuttosto godibile insomma quindi sicuramente è ben eseguita dall'orchestra dalla Sinfonica di Milano allora questo è un pezzo obbligatorio per cui tutti i concorrenti lo dovevano studiare e hanno insomma e hanno la come dire la partitura da lungo tempo però è in dubbio che per quanto uno un pezzo l'abbia studiato non ce l'avrà mai come dire sicuro come può aver sicuro una Sinfonia di Beethoven semplicemente perché l'ha fatta magari da tanti 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 anni e o la diretta diverse volte in in concerto un pezzo in prima esecuzione assoluta comunque comporta una serie di di difficoltà di questioni da porsi di difficoltà di concertazione e di e di realizzazione musicale perché comunque anche l'orchestra l'orchestra si è studiata ma non lo conosceva questo pezzo chiaramente anche un'orchestra un conto se facciamo fare una Sinfonia che ha suonato mille volte un conto è un pezzo in prima esecuzione assoluta tutt'altro che facile peraltro tutt'altro che facile questo se vogliamo per uno per un finalista è un qualcosa che rischia di non farlo risaltare come invece risalterebbe su un brano che conosce molto meglio però devo dire che Giovanni Conti se l'è cavata molto bene e si vedeva che il pezzo l'aveva studiato veramente in maniera approfondita si vedeva dalla sicurezza con cui è diretto e con cui si è diretto naturalmente con la partitura naturalmente nessuno pretendeva niente di diverso però lo vedi quando uno ha davanti la partitura perché ha bisogno di vedere e di leggere o quando ce l'ha così per rete di sicurezza ma il pezzo l'ha studiato bene e questo è il caso l'ha studiato sicuramente bene dopodiché ci ha fatto una buona esecuzione dell'ouverture dei Vespi siciliani in cui forse avrei potuto usare di più soprattutto sul tempo sul tempo del finale che mi è sembrato come dire un po' sicuro un po' come non volesse rischiare invece secondo me il finale dell'ouverture dei Vespi è proprio uno di quei casi in cui è l'occasione del direttore di usare un po' di nerbo di usare un po' di coraggio anche e di buttarsi in un punto che oggettivamente è pericoloso ma che secondo me se non lo fai in un'occasione del genere con un'orchestra del genere quando lo rifarai lui non l'ha fatto e la cosa mi è dispiaciuta perché comunque Giovanni Conti è un direttore ripeto che rispetto alla giovanità è veramente molto molto in gamba sono sicuro che per almeno di due dei quattro finalisti di ieri sera sentiremo ancora parlare probabilmente di tutti e quattro ecco perché vi segnalo i loro nomi segnatevi su un taccuino poi vediamo se tra qualche anno avevamo visto giusto il secondo concorrente è stato Aram Kashek che io conosco nel senso che l'ho già visto dirigere e ci siamo incrociati insomma in un paio in un paio di occasioni è un ragazzo di 27 anni 27 forse 28 se non ricordo di questo stiamo parlando molto in gamba sicuramente un ottimo musicista ripeto io l'ho visto già dirigere insomma e nonostante la giovanità è uno che ha già una certa personalità ha diretto il Don Juan di Richard Strauss l'ha diretto bene nel complesso poi ho parlato con lui alla fine del concerto e gli ho detto che secondo me lo ha penalizzato il fatto di non averlo fatto a memoria vero che Don Juan è un pezzo molto difficile per amore di Dio è uno di quei pezzi da concerto da virtuoso della bacchetta questo non si non si discute è un pezzo molto difficile da dirigere però è comunque un pezzo di repertorio e tutti i pezzi di questa sera al netto della prima esecuzione di Gianluca Piombo sono pezzi che un compositore regolarmente dirige e che deve sapere e quindi secondo me questa cosa un po' lo ha penalizzato detto questo non sono sicuro che questo sia il suo repertorio prediletto però ovviamente tenete presente che un direttore non può dirigere tutto 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 bene ma bene avrà ovviamente le cose che gli verranno meglio che senti più sue le cose che verranno meno bene e le cose su cui sarebbe meglio che non mettesse le mani insomma ecco io sono convinto che Arankashek sia un ottimo direttore con un futuro quasi assicurato nella vita non si può mai dire niente ma insomma ma io auspico comunque che continui la brillante carriera che già sto facendo ma tutti e quattro la stanno già facendo e quindi decisamente in bocca al lupo il terzo concorrente è stato Luca Hauser tedesco che ha diretto i primi due movimenti della sinfonia di Brahms che a me non è spiaciuto è il più giovane di tutti è 26 anni veramente insomma poco più di un ragazzino e affrontare una terza di Brahms comunque insomma che è un brano che richiede non tanto dal punto di vista tecnico ma proprio dal punto di vista della macerazione che è un pezzo che ha all'interno della conoscenza della memoria e soprattutto dello spirito di un direttore orchestra è un pezzo che deve macerare per anni ecco forse dopo dieci anni che ci ha riflettuto su magari riesce a farne una lettura tra virgolette giusta diretto anche lui a memoria naturalmente però ripeto questo è un altro pezzo che si fa a memoria secondo me l'unico difetto di questo di questo ragazzo è che è ancora che è ancora giovane e quindi sicuramente potrà fare una buona carriera e ovviamente glielo auguriamo il concerto è stato chiuso dal coreano Ming-Gyu Song che ha due vantaggi rispetto agli altri tre concorrenti innanzitutto il fatto che è il maggiore di tutti a 31 anni il range del concorso se non ricordo male era dai 25 ai 35 quindi diciamo che Hauser era dentro per un pelo ecco mentre Ming-Gyu Song insomma era nel pieno del range è un direttore comunque già di grande esperienza questo lo si vede si vede insomma che uno che sul palcoscenico e sul podio c'è stato tante volte e sa e sa farsi valere mi è stupito una cosa che veramente può sembrare una sciocchezza ma entrando non ho dato la mano alla spalla che è una cosa che dire irrituale è veramente è veramente poco ecco non so come mai l'altro secondo vantaggio è che ha fatto il terzo e il quarto movimento della Sinfonia di Brahms nonché appunto il finale del concerto quindi il terzo movimento della Sinfonia di Brahms è uno dei pezzi più famosi della musica la musica classica e quindi come dire questa cosa aiuta nella percezione del pubblico non della giuria la giuria evidentemente ha degli altri parametri di riferimento e quindi chiudere comunque poi anche col finale la Sinfonia anche per il pubblico sicuramente è stato più premiante più premiante per lui io devo dire insomma che che al netto il fatto che ha diretto bene si vede un solidissimo professionista anche il terzo movimento secondo me è un altro di quei punti che uno deve macerare deve essere struggente e lì c'è stato poco struggimento ecco un'esecuzione assolutamente pulita precisa ma poco come dire non particolarmente emozionante allora come è finita la competizione ripeto sono state una serie prima del vincitore assoluto una serie di vari premi dati da altre giurie che hanno valutato altri parametri e anche l'orchestra ha stabilito qual era il migliore dei direttori secondo l'orchestra l'hanno fatto ovviamente come dire a votazione ecco allora terzo è arrivato Aram Kashek io sono ancora convinto che forse avrei potuto aspirare anche a un qualcosa in più perché è un direttore di sicuro talento e di buona tecnica e ribadisco quello che gli ho detto a lui a lui ieri sera vis-a-vis cioè che secondo me la finale di un concorso la devi fare in memoria e non con la partitura al secondo posto c'è stato Giovanni Conti anche lui ripeto ottimo ottimo direttore di cui credo sentiremo presto parlare i due premi più interessanti se vogliamo tipo 7-8 da 7-8 giurie diversi i due premi più interessanti sono a mio modo di vedere oltre a quello ovviamente della giuria quello dell'orchestra l'orchestra ha votato come miglior direttore Ming Yu Song e il vincitore assoluto del concorso internazionale che quindi porta a casa una cospicua somma di denaro e poi tutta una serie di altri di altri vantaggi è stato lo stesso Ming Yu Song quindi Luca Hauser non ha non ha insomma è arrivato quarto diciamo mi ha stupito che non abbia portato a casa neanche nessuno dei premi tipo dei 7-8 premi delle altre giurie invece Ramakashek ha fatto incetta di premi extra tipo forse su 8 ne ha portati a casa 4 lui su 7-8 una cosa del genere per cui cosa dire dobbiamo assolutamente applaudire l'iniziativa del Teatro Coccia e dell'Orchestra Sinfonica di Milano perché guardate che le orchestre raramente fanno volentieri concorsi per direttore orchestra perché vuol dire un super lavoro molte volte con dei candidati che magari non sono all'altezza dell'orchestra che stanno che stanno dirigendo e insomma spesso e volentieri le orchestre non rendono bene invece l'orchestra ieri è sonata molto bene resta comunque una delle migliori sinfoniche d'Italia sicuramente e quindi assolutamente apprezzabile il loro sforzo perché sono stati comunque giorni veramente di grande di grande lavoro avendo a che fare con così tanti candidati e ovviamente plaudo l'attività proprio di organizzazione del concorso Cantelli che era la tredicesima edizione e insomma spero che il teatro Coccia di Novara continui anche nei prossimi anni a organizzare un evento così importante scriveteli nei commenti cosa ne pensate in generale dei concorsi di direzione d'orchestra e se avete visto dirigere uno dei quattro dei quattro direttori giovani direttori che ho nominato ma se non avete mai visto dirigere nessuno dei quattro è probabile che qualcuno lo incrociate prossimamente sui podi grazie ci vediamo al prossimo video grazie a tutti